amici buongiorno buon lunedì lunedì 27 di dicembre allora come avete passato il natale santo stefano spero bene vero è poi natale so che ci avete seguiti in tanti perché altra grande puntata del nostro degni di nota questa quinta edizione grazie grazie come sempre per tutto l'affetto che ci regalate e allora anche questa settimana torniamo appunto a rivivere i momenti le belle canzoni che i nostri ragazzi ci hanno regalato comunque ancora tanti auguri buone feste questa è la settimana che ci porta al veglione di san silvestro speriamo che finisca questo 2021 che il 2022 ci regali qualcosa di bello perché ormai dite la verità non ne possiamo più allora musica mattia ad occhio questa è una delle due canzoni che ci ha regalato sabato nella notte di natale nella grande puntata dei live di degni di nota ce lo andiamo ad ascoltare poi torniamo qui vai Renato la differenza tra me e te non lo capite fino in fondo veramente bene me e te uno dei due sa farsi male l'altro meno però me e te è così una negazione mi perdono i dettagli nei disordini e tu no e te lo tuo passato è il mio passato ma tu no me e te così chiaro che sembra difficile la mia vita mi fa perdere i sogni insieme mi fa capire che è evidente la differenza tra me e te tu hai due tu hai da sentirlo così tu mi chiedi come sto e il tuo sorriso spegne i tormenti e le domande a fare bene a stare male a torturarmi이 a chiedermi perchè La differenza tra me e te, come stai bene io, come sto con me, e te, uno sorride e dico a me, l'altro piange, cosa non è, penso sia un errore. E io ho tre certezze, una finta e qualche amico, due molte, novanta, alcune facce, me lo dico, e te, da voler andare via, la mia vita mi fa perdere il sogno sempre, mi fa capire che è evidente. La differenza tra me e te, come stai bene io, come sto con me, e il tuo sorriso spiegherà il tormento e le domande a stare bene, a stare male, a torturarmi, a chiedermi perché. E se la mia vita ogni tanto alzerà, l'inutilità di questi insicure, non te lo direi. Ma se... 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 E questo sia bellissimo, questo sia bellissimo. Ragazzi è ufficiale, amici si parte perché la nostra vacanza è in partenza dal... 5 al 12 giugno 2022. Fantastica Puglia, Marina di Pulsano. Nicolaus Club, Hotel 4 Stelle, Il Gabbiano a 770 euro tutto compreso. Amici avete capito, l'orchestra Bergamini, Nerea Danze, una settimana da sogno in un villaggio fantastico. Mi raccomando qui vedete i numeri della nostra agenzia Chi è ora, chiamate per qualsiasi informazione e soprattutto per prenotarvi perché vogliamo passare insieme a voi una settimana da sogno. Poi ragazzi abbiamo Andrea, Nicole che tutte le mattine vi faranno scuola di ballo, vi insegneranno i passi segreti della nostra tradizione dei balli di gruppo. Mi raccomando, allora avete capito che dal... 5 al 12 giugno 2022. Brava. Fantastica Puglia a Marina di Pulsano. Complimenti. Al Nicolaus Club con l'hotel Il Gabbiano, 4 stelle, 770 euro tutto compreso per voi. Fantastico. E allora ragazzi, vi aspettiamo! E questo era il nostro Mattia a Duocchio, da Mattia passiamo a Maria Chiara Leoni, anche lei grande protagonista di questa quinta edizione, ce l'andiamo ad ascoltare con questa sua voce squillante, ha degli acuti incredibili, ha una estensione vocale, la nostra Maria Chiara Leoni veramente tosta. E' una ragazza tosta comunque. Adesso però ce l'andiamo ad ascoltare e poi torniamo. Ora sono seduta qui pensando che ti voglio parlare. Ma questa via della città certo non è il modo ideale. Basta tanta gente se in mezzo ci fossi tu, se mi passassi accanto io ti sentirei. Amore mio, dove sei? Non senti che io sono qua? Ti pare qui, più piccola, se non fossi qui con me. Amore è lontanissimo. Amore è lontanissimo. Qui, qui con me. Passa il tempo e certo ne avrei di cose da fare, ma non mi importano, non me ne andrò, Ti voglio aspettare Intorno a me c'è fretta, l'ennesimo metro Ma io so che non, non mi muoverò Amore mio, ma dove sei? Non senti che io sono qua? Mi farò ancora più piccola Se non fossi qui con me Amore lontanissimo Ma qui con me Amore lontanissimo Se tu fossi qui con me E qui con me Non mi muoverò Amore lontanissimo Non so come mai Renato Rideli A Teleromagna, Orgel, Daluca, Novella e tutta la band Buona giornata e ci vediamo domani Buona giornata 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.